Presentata presso il Forum Universale delle Culture di Napoli, la nuova edizione del Festival della Cicala, il concorso canoro che coinvolge in giuria un gruppo di studenti delle scuole medie e superiori e dell'università. Gli studenti durante l'anno scolastico hanno l'opportunità di incontrare, conoscere e ascoltare musicisti di varie estrazioni musicali, favorendo e sviluppando così la loro formazione e il senso critico nel campo della canzone. Ascoltiamo le interviste ad alcuni ospiti presenti. Ad aprile prende il via il Festival della Cicala, quanto conta questo concorso per le nuove voci? Per me è un po' una sorpresa, sono venuto e però ho molta fiducia già sulla carta per la cosa, perché capisco che è una questione di qualità. Io sono del Club Tenco, da più di 30 anni noi ci battiamo per una canzone di qualità, che non sia semplicemente usa e getta, soprattutto a scopi televisivi, ma sia qualcosa che abbia uno spessore maggiore e quindi credo che qui siamo sulla strada giusta. C'è un suggerimento che vuole dare ai nuovi volti della musica? Di non stancarsi mai di raccontare con sincerità le proprie cose, anche se le prime esperienze possono essere deludenti, devono continuare ad andare avanti e soprattutto suonando dal vivo, senza avere più di tante speranze sul mercato discografico o radio televisivo, ma suonare, suonare, suonare per il pubblico. Con il Festival della Cicala si dà importanza alle nuove voci, qual è il consiglio che intende rivolgere ai volti emergenti della musica? Consigli pochi perché questo è un festival ben mirato e anche ben pensato. Mi piace questo, ci tengo pure a fare una piccola nota di prefazione a questo tipo di evento. Non è la musica dei giovani, ma la musica giovane, nel senso che noi vogliamo creare l'emittente e il ricevente, quindi vogliamo creare il creante, la fonte di ispirazione, la creazione, anche il pubblico che ascolta. Quindi i giovani che si impossessano della musica che è giovane. Prende il via la quinta manifestazione del Festival della Cicala, una manifestazione importante per il mondo della musica. Qual è il consiglio alle nuove voci? Il consiglio è di essere molto rigorosi. Questo è un momento in cui le televisioni propinano varie trasmissioni per cui sono fuorvianti per chi come giovane vuole darsi a questa attività. Perché la vita è effimera, lascia il tempo che trova. Invece i giovani per migliorare debbano realmente insistere, lavorare su se stessi, essere molto rigorosi, cercare la loro strada e non lasciarsi infastidire da qualsiasi cosa laterale. Cioè bisogna veramente essere rigorosi, molto. Quindi la determinazione è la base di tutto? Ma certamente, questo in tutte le attività. Poi nella nostra, che è pure un'attività, tra virgolette, effimera come attività, se tu non dimostri almeno qualcosa di importante è difficile poi farsi avanti nel tempo perché non sono professioni che assicurano un avvenire. Per cui se tu lo vuoi fare, lo devi fare proprio bene. Altrimenti diventa un hobby. Ecco, la scelta è questa. Se uno vuole farla come hobby, divertendosi lo stesso, oppure come professione. Quindi ci vuole un impegno maggiore delle altre professioni. La finale del festival si svolgerà nell'ambito del disco Days, la fiera del disco e della musica che si svolgerà il 9 e il 10 aprile al Palle Partenope di Napoli. Così come ci dice l'ideatore Nicola Iuppariello. Il festival della Cicala avrà luogo durante la fiera disco Days. In che modo si è creata questa sinergia tra questi due componenti della musica? La sinergia è proprio una sinergia di intenti che si è in pratica creata ma che esiste diciamo prima ancora che i due festival potessero collaborare insieme. Tanto che il disco Days come fila della musica la promuove e promuovendo anche l'ascolto. Il festival della Cicala promuove l'educazione all'ascolto quindi in pratica questo per me è un momento importante per poter esprimere la gioia di poter avere come partner e quindi ospitare la finale di questo festival. Tre le targhe assegnate. Al vincitore della targa didattica dedicata a Valeria Guida andrà in omaggio un giradischi. Al vincitore della targa artistica andrà in omaggio un'opera dell'artista Lello Esposito. E al vincitore della targa SIAE sarà realizzato un videoclip. Inoltre vincitore delle targhe si esibiranno al May di Faenza 2011 nell'ambito delle iniziative realizzate dal circuito della rete dei festival promosse da Audiocop.